Sono 16 posti da primario che saranno messi a concorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. L'assessorato ha infatti sbloccato i vecchi concorsi congelati dal 29 dicembre del 2017 e ha aperto la corsa per l'assegnazione delle strutture complesse previste per la nuova rete ospedaliera che tre settimane fa ha incassato il parere favorevole del Ministero della Salute. L'assessore Ruggero Razza ha così inviato ai commissari straordinari di aziende sanitarie ospedali una direttiva che le autorizza ad attribuire incarichi di direzione di strutture operative complesse sospesi più di un anno fa. Vi è libera anche alle procedure per reclutare i direttori di altre unità complesse di nuova istituzione. Per i concorsi già portati a termine e congelati i vincitori potranno subito essere chiamati in servizio. Per quelli in cui la commissione era già stata nominata si può andare avanti con la valutazione dei candidati. Per le procedure per le quali non era stata ancora individuata una commissione si autorizza la nomina dei componenti. L'unico vincolo è legato ai reparti in eccesso che sono circa 150 in tutta la Sicilia da tagliare entro il 2020 per adeguarsi ai dettami del Ministero della Salute. Per questo i manager dovranno chiedere di volta in volta l'autorizzazione all'ossessorato alla salute.